Bella a tutti ragazzi, io sono DoggyJ e oggi siamo in un nuovo video, siamo su Minecraft Pocket Edition assieme ad StepGamer Bella ragazzi Ok ragazzi, stiamo cercando di riprendere il video di prima Ma senti, io incendio un po' le cose perché così mi puoi vedere Cioè, me... Mi metto un po' di fuoco, ovunque Ho trovato carbone Grande Eh sì, ma non lo vedono il piccone, non me ne ho preso poi Ma è inutile Il maiole è passato nel fuoco, perché tantissimi maieri sono passando nel fuoco, sono diventati neri e uno è morto Perché è diventato nero? Perché è buio Oh, non lo so Senti, è bello riscaldarsi davanti al fuoco con un bellissimo, oddio Ecco, è bello riscaldarsi davanti al fuoco come stavo dicendo Sei morto? Oddio, oddio Oddio, se muoverà solo regà No, il fuoco si è levato, ora l'ho scoperto Vabbè Senti, oddio, mi sono disconnesso Dove sei? Ma l'hai capito che mi sono levato? No, io questo qua non lo metto. Cioè, va bene noi due, però il primo no. Dai, manca sino con i biamè. Perché? Guarda. Trilla, trilla. Prima.